amici del canale internet bentrovati eccola qui la maglia in una settimana importante quella che che è iniziata oggi perché praticamente l'inter archiviata la sconfitta meritata e sotto alcuni punti di vista anche indecorosa veramente la prestazione della squadra come atteggiamento come già abbiamo detto nel nella live precedente un inter che secondo me ha veramente giocato una delle più brutte gare in questi ultimi anni e inzaghi ha giocato la sua più brutta gara da quando è all'inter comunque ormai è storia è partita archiviata abbiamo già parlato abbondantemente nella live che potete trovare se volete nel canale darvela rivedere e quindi abbiamo toccato anche altri punti relativi alla sconfitta comunque ormai la partita andata è storia pensiamo al futuro futuro che dice cremonese una cremonese che domani arriva in quel di milano dopo 26 anni se non erro 26 anni l'ultima volta fu un 2 a 0 era l'ottobre o il novembre del 95 del 95 l'intervinse 2 a 0 con gol di maurizio ganza e il primo gol il primo gol in italia di aver zanetti che praticamente dalla fascia destra in cui era stato diciamo messo lì per giocare fece un grande gol in taglio in due in verticale la in obliquo anzi la difesa della cremonese e se non erro di sinistro con un collo sinistro mise alle spalle dell'incolpevole turci e c'era se non erro qualco sulla linea che non poteva fare nulla un bel gol con zanetti che esplose di gioia andato con la riveriera fu una partita in una partita bella normale un inter che comunque aveva non era una grande inter anzi rimase dopo un minuto due minuti in dieci per un'espulsione di gialluca festa l'inter comunque riuscì a vincere quella partita con il gol di maurizio ganza e aviar zanetti che segno il primo gol in serie a quindi cremonese che evoca grandi ricordi soprattutto con il capitano aviar zanetti al ritorno fece anche un altro bel gol nel 4 a 2 del ritorno una serpentina centrale che scarto anche il portiere razzetti e mise la palla in porta sotto il settore ospiti bello bello quel gol dunque dicevo una cremonese che che arriva a milano la cremonese comunque da tenere sempre con occhi ben aperti perché comunque una squadra che attualmente da filo da torcere con chi gioca si è vero ha perso le partite ma se andate a vedere adesso non ricordo con la roma ha perso solo di di un gol e comunque è partita tosta e partita dura ha perso con la fiorentina 3 a 2 perso col torino 2 a 1 quindi è una squadra che comunque sia perde sì le partite ma non le perde 3 4 a 0 5 a 0 3 a 1 le perde sempre di misura e questo qualcosa vorrà dire si ritroverà a radu che torna a milano da avversario vediamo un po come verrà accolto dal pubblico da noi da dal pubblico dell'inter dopo ai noi e anzi anche ai lui la sfortunata vicenda dell'anno scorso di bologna però è stato un caso insieme a tanti altri fattori che hanno deciso la corsa scudetto l'anno scorso ovviamente ovviamente c'è da testare la squadra nella nel dopo nel dopo roma con la lazio è una partita che avvedrà assenti lukaku perché ieri è stato vittima di un risentimento muscolare c'è veramente tra virgolette ansia e paura perché lukaku al 99 per cento anzi al 100 per cento salta la cremonese ha un buon 90 per cento anche il derby ed è in forse anche per il bayern quindi domani si saprà di più sull'entità di questo risentimento muscolare che ha copiato il giocatore belga non ci voleva in questo momento però molti dicono che gli infortuni fanno parte del calcio non si possono prevedere però io la mia la dico io dico sempre che un allenatore si porta uno staff preparato uno staff che fa sì che i giocatori non si devono neanche infortunare neanche quando vanno sotto la doccia si si tagliano le unghie del piede strano che con con pintus conte tutto lo staff di conte in due anni l'inter non abbia sofferto mai di queste cose svanito il primo anno l'effetto conte del post in zaghi siamo nel post conte col primo anno di in zaghi adesso incominciano a tornare i fantasmi degli infortuni che si vedevano dai tempi di spalletti di tempi di questa di questi allenatori che portano i loro staff ovviamente non portano degli staff preparati tra virgolette alla alla conte alla guardiola la club ovviamente così paghi un allenatore quello e lo staff è mai normale così paghi come mangi ecco se se compri a tre euro mangerai roba da tre euro se compri roba da mille euro mangerai roba di super lusso e quindi altamente altamente migliore di quella da tre euro e in zaghi e purtroppo un allenatore che vale quella cifra e si porta lo staff che diciamo che 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 gli compete ecco che che ha poi è normale molti mi diranno va bene ma un infortunio non lo può non lo può prevedere in zaghi non lo può vedere neanche neanche il padre eterno però ci sono del secondo me nella mia piccola ignoranza calcistica tra virgolette piccola ignoranza nel senso che quando si gioca a pallone in certe certe categorie certe cose c'è bisogno anche di guardare diciamo i giocatori le schede le schede di preparazione cioè dice c'è bisogno di diciamo di uno staff competente che abbia l'onere e soprattutto il dovere di portare i giocatori almeno a degli infortuni diciamo normali è vero che un affaticamento un risentimento muscolare è comunque nella norma però ad agosto dopo tre partite già lukaku che in due anni io non ho mai visto infortunato all'inter neanche al celsi adesso arriva qui e si fa male ditemi voi non lo so anche perché in zaghi è famoso alla roma alla lazio chiedo scusa alla lazio per i suoi infortuni durante la durante tutto il campionato soprattutto a marzo e vediamo vediamo adesso come si andrà a risolvere questa questione sta di fatto che lukaku salta salta queste gare l'inter tornerà a giocare le partite queste partite con la formazione dell'anno scorso praticamente con gioco lautaro facciamoci il segno della croce e speriamo che il che il bosniaco possa ritrovare diciamo le la voglia che aveva almeno nel nell'ultimo anno con la roma nel senso dei gol nella prima parte della stagione dell'anno scorso speriamo perché comunque è una perdita pesante quella di di lukaku con noi tramite che non possa non può giocare questa 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 partita così importante ecco ovviamente non c'è nulla da dire ovviamente anche sotto il punto di vista dell'importanza di questa di questa gara con la cremonese in assoluto ma poi quelle col derby e soprattutto quello col bayern che darà inizio alla stagione in in champions league vediamo vediamo un po vediamo come si si metteranno le cose vediamo pensiamo a domani domani una partita fondamentale e poi ovviamente tireremo le le somme sulla su quello che che sarà poi la la partita di del derby noi ci avvicineremo con un'altra live con forse anche due live vediamo un po vediamo se riesco anche a portare una persona speciale che ci potrà raccontare meglio il derby di di milano ovviamente sto aspettando una risposta sto stiamo decidendo il giorno vediamo un po sicuramente vi piacerà vi piacerà tanto questa persona se 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 riusciamo a trovare diciamo l'orario esatto e la il giorno esatto comunque vedrete poi nei prossimi giorni chi sarà l'ospite ma sicuramente sicuramente sarà molto ma molto gradito a voi tifosi dell'inter e a noi c'è noi tifosi all'inter a voi che guardate il canale ovviamente niente la partita con la cremonese è fondamentale è una partita che ripeto ci fa ci fa ci fa testare diciamo la condizione post lazio ovviamente non è una partita che può completamente dare il diciamo quello che la situazione dell'inter secondo me la partita importante è quella il derby il derby l'inter peccato ci arriva con senza senza lukaku ma ci vorrebbe un miracolo e niente vediamo vediamo un po infatti molti dicono sì ma l'ultimo derby senza lukaku abbiamo vinto 3 a 0 sì è vero vediamo vediamo un po ovviamente bisogna dare fiducia ma adesso come adesso è pesante quella sconfitta con la con la lazio ma ripeto non tanto per per il risultato proprio per la prestazione per la voglia per la grinta per per quello che dovrebbe essere una squadra quando si affrontano queste partite non ci dovrebbe essere questo spirito questa questa voglia mi auguro che il cazziatone si è arrivato per tutti il calcio in culo a livello emotivo si è arrivato per tutti che abbia spronato un po i senatori come si dice che devono trascinare questa squadra e vediamo speriamo bene certo con la cremonese non mi aspetto secondo me giocheranno in attacco con ria e lautaro io non penso che che inzaghi se lo se lo si conosce bene non rischierà mai gioco dal primo minuto perché sapendo di non avere luca con lui non giocherà con con gioco dal primo minuto secondo me giocheranno con con lautaro e e correa questa è una mia una mia opinione così come non giocherà secondo me danfris giocherà a mio parere giocherà uno tra giocherà gossens giocheranno giocherà secondo me anche da ambrosio e farà e farà spazio a qualcuno dei tre di tre centrali secondo me ci sarà anche il cambio potrà giocare onana e andanovic sono mie supposizioni dato che c'è una partita importante come il derby che arriva anche di di sabato quindi a stretto a stretto giro di di giorni ecco quindi ragazzi che dire il derby ne parleremo nelle giornate subito dopo questa ovviamente speriamo bene per domani ma tendiamo anche la conferenza stampa se ci sarà del del mister e ovviamente vediamo come andrà domani la partita io vi saluto ci volevo dire su acerbi sul calcio mercato in queste ore si parla di acerbi dell'arrivo di acerbi a fine diciamo calcio mercato poi dirò la mia su quello che è stato questo calcio questo calcio mercato e ne parleremo ovviamente con tutti quelli che vorranno argomentare questo questo tema sul sul canale ragazzi se volete commentate scrivete io vi rispondo ne parliamo insieme ovviamente vi vi ricordo di iscrivervi al canale mettere vi piace commentare e condividere con il canale con altri amici tifosi dell'inter ovviamente anche sulla pagina instagram inter internet underscore 1982 cercate internet si vede anche la diciamo la stessa immagine che qui sul canale e niente che dire poi ragazzi se commentiamo argomentiamo infatti ultimamente su instagram è bello argomentare queste cose sul sull'infortunio di lukaku diciamo questi argomenti attuali che stanno uscendo purtroppo sul sull'inter mi auguro di commentare anche di argomentare anche delle delle vittorie delle delle giornate molto più belle ragazzi io vi saluto vi do appuntamento al prossimo video speriamo di fare questa live e rimanete sempre in diciamo rimanete sempre in allerta col canale perché ripeto spero di fare questa live questa persona importante e sarà veramente una bella live incentrata soprattutto sul sul derby sul sullo spirito di come si vive il derby a milano vediamo vediamo anche qualche derby vintage vediamo un po secondo me sarà una bella live spero di riuscirlo a fare nel caso non potessi non potessi farla insieme a questa persona comunque andrà in onda andrà in onda andrà in onda lo stesso la la puntata dove parleremo ovviamente sempre nel tema derby e delle partite che sono state di quella che sta per arrivare ragazzi un saluto un abbraccio forza inter mi raccomando iscrivete condividete mettete in piace e soprattutto la pagina instagram ciao ragazzi un abbraccio